Si torna a parlare del crollo della casa dello studente e dei relativi processi come da copione riparte anche l'indecoroso scarica a Barile rispetto a quella strage. A denunciarlo è Antonietta Centofanti, portavoce del comitato familiare vittime casa dello studente. All'indecoroso domani degli articoli di stampa in cui sono riportate le dichiarazioni dell'avvocato Vagna della Vigna, che rappresenta i ragazzi sopravvissuti, e Michelone, lo studente israeliano morto nel crollo. Secondo della Vigna, la regione Abruzzo starebbe evitando di assumersi le proprie responsabilità di fronte alle parti civili, chiamando in causa le presunte colpe di altri soggetti, lo Stato, un immobiliare e fino anche la ADSU, agenzia di proprietà della stessa regione. L'ente avrebbe scaricato innanzitutto sullo Stato centrale, attraverso il Ministero dell'Istruzione e l'Università dell'Aquila, per aver acquistato l'edificio incurante del deficit di carenza strutturale che soffriva. Poi la Angelini, immobiliare che ha progettato l'immobile e che secondo la regione non l'avrebbe fatto costruire secondo le normative. E infine anche l'ADSU, per il ruolo di custode esclusivo dell'edificio. A sua volta per della Vigna sarebbe anche la stessa agenzia per il diritto allo studio universitario a fare scarica a Barile sulla regione in quanto proprietaria dell'edificio. Un gran caos insomma. L'udienza civile è stata aggiornata a giugno. La regione Abruzzo, prosegue la Centofanti, tira in ballo lo Stato, l'Università, l'ADSU, l'Angelini e gli imputati condannati nei primi due gradi di giudizio. Ed è solo l'inizio di un gioco sporco nel quale ciascuna delle parti, a vario titolo coinvolte, cerca di scrollarsi di dosso la responsabilità di quanto accaduto. Questo scenario, prosegue la Centofanti, si fa ancora più vergognoso se prendiamo in esame il rischio di prescrizione per il processo penale prevista per il prossimo 6 ottobre 2016. I tempi lunghi di un'iter processuale, le sentenze ribaltate come nella Commissione Grandi Rischi, il rischio di prescrizione, sempre in agguato, non rispondono certo al bisogno di giustizia dei familiari delle vittime di strage e tragedie di ogni genere, denuncia la portavoce del Comitato. Il tributo umano che essi hanno dovuto pagare serva perlomeno a cambiare la giustizia di questo paese e ad abolire la prescrizione per i reati contro la vita, conclude la Centofanti, come lo è stato quello che ha consentito che otto ragazzi intestuti di sogni venissero sepolti sotto il collo di un edificio impropriamente denominato Casa dello Studente e mai messo in sicurezza. Se lo si fosse considerato perciò che era diventato uno studentato, ossia un luogo che ospitava ragazze e ragazzi, il loro futuro, la loro formazione, i loro primi amori, si sarebbero dovute porre in essere tutte le operazioni necessarie in termini di adeguamento e stabilità. Sembra ancora in alto male la nomina del nuovo manager dell'ASL sul Monavezzano L'Aquila e il nome su cui sembrava ormai essere stata individuata la quadra da giorni, quello del direttore dell'ASM Rinaldo Tordera, divide il mondo del sindacato e della politica con la giunta regionale che ha rinviato ancora una volta la nomina dell'erede di Giancarlo Silveri. Oltre alla dicotomia manager o medico alla guida dell'ASL, a creare più di un mal di pancia sempre essere proprio la figura dell'ex direttore generale della Carispac. Un nome inaccettabile secondo il consigliere regionale di Forza Italia Emilio Iampieri che reclama maggior coinvolgimento dei territori. Ancor più duri sindacati, una nomina come quella di Rinaldo Tordera, nuovo manager dell'ASL Aquilana, da quello che si vocifera, aprirebbe il campo a dei ricorsi e anche noi come sindacato ci associamo a questa cosa, afferma il coordinatore provinciale sanità della CISL Gianfranco Giorgi. In relazione al fatto che l'ex direttore della Carispac, dato come possibile candidato alla direzione generale, figura negli elenchi di idonei di regioni come Lombardia e Toscana, ma non in quello dell'Abruzzo. Le nomine vanno fatte seguendo procedure corrette per evitare la paralisi amministrativa, aggiunge Giorgi. Un contenzioso sarebbe devastante. Sulla stessa linea l'UGL che attraverso il segretario provinciale Giuliano Vespa annuncia il possibile coinvolgimento della magistratura. Sembrerebbe, afferma la Vespa, sempre più vicina alla nomina manager dell'ASL Avezzano sul Monal Aquila dell'ex direttore Carispac, ex consulente della Edimo Fallita, attuale amministratore unico ASM e amministratore delegato di sviluppo Italia Abruzzo Rinaldo Tordera. È noto a tutti che Tordera non rientra nell'elenco regionale degli idonei, dove, come scritto nella delibera di bando, bisogna attingere. Ma di tutto ciò, conclude la Vespa, non si tiene conto ed il duo excelente d'Alfonso non si preoccupa né dei ricorsi che scaturirebbero da questa nomina né dagli atti che anche noi come UGL porteremo in procura. Insomma, una situazione in divenire che potrebbe risolversi anche nelle prossime ore con un finale sorpresa di chi Tordera. Candidato Papa esce cardinale dal conclave e con una nomina che alla fine potrebbe essere al femminile. In Lizza, Patrizia Masciovecchio, direttrice del Dipartimento di Medicina alle gare del San Salvatore e Sabrina Cicogna, direttrice dell'Unità di Cardiologia del Nosocomio Aquilano. Un arcobaleno di colori, un'allegra bavele di sensazioni. L'Aquila affida allo sport il suo messaggio di rinascita e di pace attraverso la cerimonia d'apertura dei campionati mondiali studenteschi di sci, organizzati dall'International School Sport Federation, dal MIUR e dall'Ufficio Scolastico Provinciale per l'Abruzzo. Il campanile della cattedrale di Piazza Duomo si è acceso per accogliere le 17 delegazioni di sciatori provenienti da molti paesi che discuteranno la settimana dei campionati che avranno termine il 27 febbraio prossimo. Lo slogan scelto per l'evento, i tuoi sci, le nostre ali, è stato il leitmotiv della cerimonia. Due vigili del fuoco sciatori scendendo dal cielo si sono trasformati in angeli per accogliere le delegazioni provenienti da Austria, Belgio, Croazia, Inghilterra, Estonia, Francia, Germania, Russia, Scozia, Slovacchia, Spagna, Svizzera, Turchia e ovviamente Italia. Studenti rappresentanti delle diverse delegazioni hanno depositato sul palco un oggetto simbolo della propria nazione. Angeli sciatori invece hanno consegnato la bagniera dell'Aisf all'ultimo tedoforo, una squadra d'intera di atleti di Special Olympics prima dell'accensione del tripode sul campanile della cattedrale. Desidero esprimere il mio orgoglio nel trovarmi nella città dell'Aquila, ha esordito il presidente mondiale Aisf, Laurent Petrinca, in messaggio multilingue. Sono estremamente grato e favorevolmente impressionato dalla efficiente organizzazione che ha reso possibile la realizzazione dei campionati mondiali studenteschi di sci. Da oggi al via le gare di sci nordico ed alpino, dunque, sulle piste di Campo Felice e Dovindoli, dove organizzatori e tecnici sono al lavoro da giorni per preparare il campo di gara. Le alte temperature e le scarse precipitazioni nevose non hanno impedito l'avvio della Kermess mondiale che ha riacceso i riflettori sulla città dell'Aquila che, nonostante le mille difficoltà, si è dimostrata in grado di poter accogliere una manifestazione di alto livello.